buongiorno a tutti sono marita ferrara consulente immobiliare della remax stella polare oggi mi trovo qui a cisternino al centro della valle d'itria dove vi voglio presentare una tenuta dei primi del novecento così bella che non ha bisogno di essere descritta seguitemi grazie a tutti No, I've been misleadin' Kevin Find a way to bring you to say The things I need to hear That you feel me Do you feel me? Despite my ego, still I can let go of you Despite my ego, still I can let go of you Despite my ego, still I can let go of you Despite my ego, still I can let go of you Despite my ego, still I can let go of you 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 You see you later I can let go of you